Il mercato Juve Mercato Juve, Blaise Matuidi invita Paul Pogba a tornare alla Juventus Paul Pogba tornerà alla Juventus? Il rumor di calciomercato sta assumendo toni sempre più forti e non è da escludere un altro colpo di scena dopo quello clamoroso che ha riguardato lacquisto di Cristiano Ronaldo Ad alimentare il possibile ritorno in bianconero del polpo, un curioso siparietto tra Pogba e il centrocampista della Juventus, Blaise Matuidi In occasione dei festeggiamenti per la vittoria ai mondiali, Matuidi ha abbracciato il compagno di squadra davanti ad una videocamera, intimandogli pubblicamente di tornare alla Juventus, devi venire ancora, devi venire ancora. Matuidi lancia lappello a Pogba e lui risponde, vecchia signora Secondo quanto riportato dal quotidiano turinese Tutto Sport, Paul Pogba non si è scomposto più di tanto di fronte al caloroso invito di Blaise Matuidi, anche se, scatenandosi nei festeggiamenti, scandisce per bene lo slogan, vecchia signora! Vecchia signora! Del resto, Pogba non sopporta Manchester e lo ha lasciato intendere più di una volta, il rapporto con Giosè Mourinho vive di alti e bassi e se da una parte lo specialone vorrebbe trattenerlo con i Red Devils, dallaltra il ragazzone francese avrebbe una gran voglia di scapparsene via. Oltre all'appello lanciato da Matuidi, anche Paolo Di Bala, Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini, e non solo loro, vorrebbero riavere nello spogliatoio la simpatia e le pazzie di Paul Pogba. Pogba, trattativa difficile ma non impossibile, la Juventus potrebbe provarci. Un affare difficile ma non impossibile. Il Manchester United spese la bellezza di 105 milioni di euro, nel 2016, per avere il centrocampista francese ed è chiaro che non vuole rimetterci. L'impressione è che con 60-70 milioni di euro, la dirigenza juventina potrebbe convincere i Red Devils, tanto più che Pogba stesso potrebbe spingere verso l'accordo. Anche gli ottimi rapporti tra il suo procuratore, Mino Raiola, e la Juventus potrebbero favorire la trattativa. Raiola avrebbe già proposto il giocatore a Barcellona e Real Madrid, ma i due club spagnoli non sono sembrati troppo entusiasti. C'è un altro elemento da considerare, Pogba si trova a meraviglia nel centrocampo A3 e il tecnico Massimiliano Allegri sarebbe orientato a sperimentare il 4-3-3, soprattutto a beneficio di Cristiano Ronaldo. Pochi giorni prima dell'inizio del Mondiale, Pogba disse, il mio futuro? Il contratto dice Manchester United, tuttavia non si sa cosa succederà. Tanto più ora che è diventato campione del mondo.